Dalla Sicilia a Rio in un originale viaggio di nozze, protagonisti Giorgia e Giuseppe. Quando vi siete sposati? Il 6 luglio. Perfetto, un coro all'unisono. Da dove arrivate? Da Acidrezza. Ecco, quando avete deciso che avreste fatto questo originale viaggio di nozze? Noi abbiamo deciso di sposarci e di conseguenza abbiamo deciso di venire qua in viaggio di nozze. Un anno fa abbiamo deciso. Avete già partecipato a qualche altra GMG? Sì, siamo stati a Sydney e a Madrid. Già insieme? Sì, sì, sempre insieme. Insomma, ormai dei veterani ecco. Sì, sì. Allora auguri eh? Grazie. Ciao. 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 Porta Italia. Porta Papa Francesco.